non c'è fuori rapido perchè la porta è aperta così che significa che non vorrei neanche male la porta è aperta così proprio a questo il primo è mica una posta e lì ma la porta è aperta così c'è una cosa che volete vedere la porta è aperta così la porta è aperta così